Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source questa è una puntata che vuole essere una riflessione su un approccio che noi utilizziamo per poter diffondere il software libero open source all'interno della vita di tutti gli utenti un approccio sbagliato noi utilizziamo spesso e volentieri, abusiamo spesso e volentieri del termine alternativa esempio, LibreOffice alternativa a Microsoft Office Ubuntu alternativa a Microsoft Windows Gimp alternativa a Photoshop perché è sbagliato utilizzare questo termine? perché noi ci mettiamo di fatto in una situazione di sudditanza psicologica nei confronti di questi software che auspichiamo a raggiungerli e istighiamo nella mente delle persone un meccanismo strano che ho riscontrato nelle persone che poi provano il software libero open source sotto consiglio è un meccanismo che porta a fare le pulci al software e che spesso vi porta in un atteggiamento ostile con dei pregiudizi nei confronti del software se per esempio non si trovano con una funzionalità fatta nel modo in cui erano abituati a farla o se appunto non trovano anche l'esempio scemo però è vero questa cosa non trovano i menu disposti come si erano abituati a utilizzare nel software proprietario che hanno utilizzato per anni e questi diventano degli ostacoli diventano degli ostacoli perché magari l'utente dice che è schifo non posso inserire le immagini in questa maniera non posso editare questo facendo quel clic così e clic così là come ero abituato prima e che quindi poi vi portano a dire questo software fa schifo questo software non è buono perché noi li abbiamo spacciati come un'alternativa a quei software che noi appunto andiamo a confrontare andiamo a sostituire quando utilizziamo un software libero open source ecco per me questo termine alternativo non dovrebbe essere più utilizzato perché appunto crea queste barriere i software liberi e open source sono dei software sono degli strumenti che servono per fare determinate cose libero office pubblicizziamo come suite da ufficio gratuita e libera non come l'alternativa gratuita a microsoft office così per qualsiasi altro tipo di software non siamo alternative siamo software ci sono dei software che hanno un uovo perché che consentono di fare determinati lavori lasciamo poi giudicare all'utenza se questi software sono buoni se sono utili per le loro esigenze e quant'altro ma non proponiamoli come alternative perché appunto non sono alternative sono software almeno una loro dignità come se per esempio un software un CAD qualsiasi si proponesse sempre come alternativo proprietario si proponesse che ne so come alternativa ad AutoCAD è normale che se tu ti proponi come alternativa ad AutoCAD se l'utente non trova la virgola uguale come in AutoCAD dice ah che schifo non lo utilizzo ho fatto un esempio perché è il mio settore quello tecnico quindi so che cosa significa utilizzare software diversi far utilizzare software diversi in questo caso ripeto noi dobbiamo puntare sulla posizione del termine alternativa ma dobbiamo puntare sul proporre software non come alternativa ma come soluzioni quindi secondo me questa è una delle vie che potremmo utilizzare per poter aiutare a diffondere il software libero open source nell'uso di tutti i giorni e quant'altro fatemi sapere cosa ne pensate lunga vita e prosperità ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao